Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 27 aprile, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione è stato processato un numero di 1.796 tamponi per un totale complessivo di 320.474 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si aggiunge un totale di 14.292 test antigenici rapidi effettuati alla data di rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 191 e di queste 187 si riferiscono a soggetti residenti, una a soggetto non residente ma domiciliato in Regione Basilicata, tre a soggetti non residenti e in isolamento nelle rispettive regioni. Tra i positivi della giornata presa in esame si osserva una prevalenza di soggetti di sesso maschile con un'età media inferiore di 36 anni rispetto ai soggetti di sesso femminile che hanno riportato un'età media di 42 anni. Tra i casi positivi nella giornata esaminata rimane significativa al 21 la percentuale dei soggetti nella fascia di età 0-20 anni, sempre più rappresentata al 71% la fascia di età tra i 21 e i 64 anni, mentre si riduce ulteriormente l'interessamento degli ultra 65 anni all'8% e ciò potrebbe essere un segnale confortante relativo alla protezione offerta a questa fascia d'età dal vaccino anti-covid. Tra i casi positivi residenti in entrambi i sessi il 16% è risultato sintomatico. I principali indicatori per covid-19 della Regione danno la seguente situazione. La percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni si mantiene al 4,6%, dato superiore rispetto al dato nazionale del 2,3%. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati, che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale, è pari al 10,5%. Nella Regione le nuove positività per covid-19 per 100.000 abitanti, riferita agli ultimi sette giorni, rimane alta, con 201 casi positivi su 100.000 abitanti, comunque superiore alla media nazionale, che è di 159 casi positivi su 100.000. L'ultimo indice di contagio RT ufficiale, riferito al periodo 12-18 aprile, pari a 1,24, è leggermente in crescita rispetto al dato precedente e rispetto anche al dato medio nazionale pari a 0,81%. Per quanto riguarda i casi positivi per covid-19 nella Regione, 117 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 13 interessano il capoluogo. I rimanenti 104 sono distribuiti in 26 comuni della provincia. 70 positività sono invece attribuite alla provincia di Matera e di queste 19 interessano la città di Matera, mentre dei rimanenti 51 sono distribuite in 10 comuni della provincia. Anche per il bollettino odierno le positività sono dovute alla presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. In evidenza come numerosità di casi positivi i comuni di Corleto per Ticara, Lavello, Rioniero in Vulture, Sant'Arcangelo per la provincia di Potenza e quelli di Bernalda, Montalbano Ionico e Policoro per la provincia di Matera. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane covid dedicate nella giornata esaminata è pari a 171 pazienti, il numero complessivo dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva di 9 pazienti, 5 ricoverati presso l'ospedale San Carlo di Potenza e 4 presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Comunque nella regione il tasso d'occupazione dei posti letto, specie di quelli nei reparti di terapia intensiva, continua a essere contenuto e al di sotto dei livelli di guardia. I guariti residenti nella giornata esaminata sono 102, portando il numero complessivo dei guariti a 16.642 soggetti. I positivi totali residenti sono 5.897, mentre quelli in isolamento domiciliare 5.726. Nella giornata esaminata sono stati registrati 6 decessi correlati a covid-19, 4 dei quali ricoverati presso l'ospedale San Carlo di Potenza e 2 presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'età media dei soggetti deceduti è risultata pari a 69 anni e il totale dei deceduti residenti per covid-19 alla data odierna sale a 509 soggetti. Da verifica effettuata il 25 aprile, in ciascuno dei 131 comuni della regione, 82 sono risultati essere sede di focolai attivo per covid-19, con un numero complessivo di 3.878 soggetti positivi attivi. Di questi focolai, 59 sono situati nella provincia di Potenza e 23 in quella di Matera. La regione Basilicata è ancora indicata come regione a rischio moderato per covid-19, sia per positività dei tamponi eseguiti che per ricoveri ospedalieri. Tuttavia resta elevato il numero di nuove positività per covid-19, specie per il predominante coinvolgimento della popolazione generale. In relazione a ciò, è necessario e fondamentale continuare a mantenere un'applicazione attenta e rigorosa delle misure, quali la riduzione delle interazioni interpersonali e della mobilità, per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.